Adidas Gazelle Indoor Sean Waterspoon, uno degli ultimi estratti della collaborazione tra Adidas e l'artista che fu strappato a Nike. La Gazelle in questi mesi è davvero super popolare e Sean ha voluto dare il suo tocco alla silhouette. Tomai è in tessuto simile a corduro a color panna, su cui troviamo molti disegni astratti super colorati e diversi tra la destra e la sinistra. Sul tallone troviamo suel porpora che riporta la firma di Sean, che ritroviamo anche nella sua letta fatta di un finto sughero. Tra le strisce laterali in color blunotte, in cui il nome Gazelle in oro risalta alla perfezione. Include lacci blunotte e porpora e una sola in gomma semitrasparente. Prezzo che varia tra i 150 e i 200 euro. La domanda quindi è, voi le indossereste?